Adesso facciamo una bella chiacchierata fra uomini? Eh beh, certo! Era in pericolo la sua educazione! Non ti vergogni di com'è ridotto questo povero ragazzo! La sua moralità! Ah! Siamo arrivati alla lussuria! Per forza si chiama libero come suo nono! Dio solo sa quanto deve aver sofferto in quell'orribile tocurio! Invece, con le dolci zie... Deve guardare ogni cosa nella giusta prospettiva! Ah, però... Tu non lo lavi! Me ne occupo io! Abbiamo capito! Dalla padella alla braccia! Ma te che fai io? Le dolci zie! Venerdì alle 23.15, 7 gomme!